Il mio mandarino Questo mandarino e oggi volevo farvelo dire Non so perché ma volevo farvi vedere Il mio mandarino Bello a tutti ragazzi siamo qui con un altro Speed drawing oggi come sapevate O almeno per chi mi segue su Instagram e su Facebook Cavalletta dovrebbe sapere che c'è stato Il disegno del pacchetto di patatine Quindi il disegno è questo Per chi volesse Vederlo meglio qui c'è stato un Smadonnamento non vi immaginate neanche Allora se ho la vostra così non ci fate naso C'ho il naso tappatissimo Dicevo c'è stato uno smadonnamento Proprio a livelli abnormi Perché l'avevo fatto tutto Decentemente però alla fine C'è stato questi due pezzi Bianchi che mi hanno fatto andare fuori Di testa mi hanno fatto andare fuori di testa perché Perché ci avevo messo una matita bianca e Bianco sul rosso fa un po' rosa quindi era diventato Rosa di conseguenza ho dovuto pigliare l'acquerello E farlo diventare Un pochino più bianco però vabbè L'effetto mi sembra renda un pochino lo stesso Quindi per chi volesse vedere meglio È questo Ragazzi un'altra cosa Come sapete non poi non ci sarà il Luca Comics Quindi dovete venire e sentare un'ottista No sul serio io sono il Luca Comics Quindi mi farebbe piacere se qualcuno venisse a salutarmi Perché mi sento solo Un po' di mancanza di affetto Sono il mio mandarino Mi fa ridere un mandarino Per chi volesse seguirmi su Instagram Michael su Facebook Michael Moccia E via con lo speed drawing Ciao a tutti 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 Grazie.